Buongiorno, sono Enrico Mazzucchelli, in questa sezione parliamo dell'integrazione di sistemi per lo sfruttamento di fonti rinnovabili nell'involucro edilizio. I più conosciuti sistemi sono i Building Integrated Photovoltaics, che sono dei sistemi che rendono l'involucro una pelle in grado di sfruttare parte della radiazione solare incidente e di convertirla in elettricità. Integrare questi sistemi nell'involucro edilizio significa riuscire ad equilibrare gli aspetti tecnici con gli aspetti estetici relativi agli involucri, senza compromettere in alcun modo le caratteristiche prestazionali dell'involucro stesso che sono state definite e descritte in precedenza. L'interazione di tali sistemi nelle facciate degli edifici richiede che la facciata sia in grado di garantire quindi tutti i requisiti dal punto di vista termico, dal punto di vista acustico, dal punto di vista della manutenibilità, dal punto di vista dell'integrazione impiantistica ed è necessario sottolineare che una integrazione significativa di questi elementi sta sempre prendendo mano nelle facciate evolute. Dal punto di vista dell'integrazione è inoltre opportuno sottolineare come questi sistemi siano economicamente competitivi, soprattutto se gli elementi fotovoltaici che vengono installati in facciata vanno a sostituire degli elementi di rivestimento, quindi sono dei pannelli fotovoltaici che non sono giusto apposti alla facciata ma che fanno e prendono la funzione degli elementi di rivestimento che vanno a sostituire, in questo modo questi sistemi diventano estremamente competitivi. Dal punto di vista dell'integrazione possiamo vedere in queste immagini che i sistemi fotovoltaici possono essere integrati sia come elementi di rivestimento ma anche come elementi frangisole, come elementi di copertura, quindi anche opaca piuttosto che trasparente, ma anche con delle caratteristiche dal punto di vista architettonico molto rilevanti, perché il mercato oggi ci offre la possibilità di utilizzare numerose tipologie di pannelli fotovoltaici anche con numerosi colori e con numerosi e differenti gradi di trasparenza. Soprattutto per quanto riguarda i vetri fotovoltaici abbiamo la possibilità di scegliere dei differenti gradi di trasparenza che ci consentono di garantire, di ottenere anche degli effetti architettonici molto vari e molto validi. Dal punto di vista dell'integrazione di questi sistemi dobbiamo comunque considerare che non sempre è facile oppure conveniente integrare tali sistemi in facciata, per il semplice motivo che dobbiamo valutare quelle che sono le condizioni e il contesto ambientale in cui noi andiamo a progettare la nostra facciata con elementi fotovoltaici integrati. Le superfici disponibili per l'integrazione di questi elementi sono infatti limitate dalla presenza di ombre portate dagli altri edifici e dall'efficienza dei pannelli stessi che cambia, dalla produzione di energia che cambia in relazione alla facciata in cui viene installato il pannello. Quindi tipicamente le facciate che consentono una maggiore produzione energetica sono le facciate rivolte a sud, anche le facciate rivolte a est e ad ovest hanno una buona produzione anche se in percentuale minore, però dobbiamo considerare come anche il contesto ambientale, quindi una città piuttosto che una villetta singola in un contesto extraurbano abbiano delle necessità differenti. In una città, come vedete in questa immagine, le ombre portate rendono praticamente inutilizzabile buona parte della superficie delle facciate nella parte bassa e quindi attenzione che la superficie teoricamente utilizzabile è normalmente maggiore della superficie che in effetti e in pratica si può utilizzare. Questo discorso vale anche per le coperture. In copertura spesso sono installati dei sistemi impiantistici che vanno ad occupare una buona parte della copertura rendendo spesso inutilizzabile buona parte della copertura stessa per l'installazione di questi sistemi. Vediamo quelle che sono le principali tipologie di pannelli che si possono installare in facciata piuttosto che in copertura. Vedete in questa immagine quelli che sono dei moduli che vengono incapsulati in lastre di vetro, quindi sono i cosiddetti vetri fotovoltaici, vedete quelli che sono le differenti percentuali di trasparenza, naturalmente più il vetro fotovoltaico consente una visione verso l'esterno e quindi un'altra trasparenza, meno ci sarà una produzione dal punto di vista energetico in quanto la superficie fotovoltaica è ridotta rispetto al caso di vetro completamente fotovoltaico. Vediamo quelle che sono anche le applicazioni relativi ai sistemi frangisole fotovoltaici, un sistema frangisole fotovoltaico è particolarmente performante dal punto di vista energetico perché è in grado sia di limitare quelli che sono gli apporti solari gratuiti interni che rientrano all'interno degli edifici, quindi di limitare sul riscaldamento degli ambienti interni nella stagione estiva, ma allo stesso tempo consente di produrre elettricità durante il suo funzionamento. Quello che vedete invece in questa slide è una tipica installazione di modulo fotovoltaico di tipo opaco invece installato in una facciata ventilata, in questo caso il modulo va a sostituire l'elemento di rivestimento realizzato normalmente per una facciata ventilata. Quest'ulteriore applicazione è relativa a un sistema fotovoltaico in cui il modulo è costituito da elementi forellati che consentono una buona trasparenza, una buona trasmissione luminosa, anche con una geometria particolarmente complessa dell'edificio come vedete in questa immagine. L'applicazione può anche essere legata in parte anche all'utilizzo di parapetti realizzati con dei vetri fotovoltaici che si integrano facilmente nelle soluzioni di facciata. Ulteriori applicazioni e sperimentazioni sono legate anche alla presenza di piccole foglie fotovoltaiche che creano un effetto edera sull'edificio in modo tale da garantire un buon aspetto estetico ma allo stesso tempo una buona produzione dal punto di vista energetico. Ulteriori sistemi per la produzione di energie da fonti rinnovabili integrabili in facciata sono i sistemi solari termici, in questo caso l'energia termica proveniente dall'impianto solare viene utilizzata per integrare l'impianto di produzione acqua calda sanitaria o per integrare l'impianto di riscaldamento, la produzione di energia per il riscaldamento in un edificio. Come vedete anche in questo caso l'installazione può essere realizzata con dei tipici pannelli solari termici che vengono utilizzati come rivestimento in facciata oppure di recente sviluppo ci sono delle soluzioni che fungono sia da frangisole sia da collettore solare termico quindi hanno in sé una duplice funzione e hanno anche in sé un buon raggiungimento di un buon aspetto dal punto di vista architettonico. Da ultimo i sistemi eolici possono anche essi essere integrati in alcune soluzioni di involucro, vediamo alcuni esempi, il core building a Miami nell'immagine a destra oppure possono essere installate come delle microturbine proprio in copertura oppure all'interno dell'involucro dell'edificio stesso. Chiaramente l'installazione di questi sistemi è strettamente legata al regime dei venti del punto in cui si va a progettare l'edificio. Allo stesso tempo notiamo che una ventilazione naturale dal punto di vista del risparmio energetico può anche essere utilizzata per garantire un buon ricambio d'aria, una buona qualità dell'aria all'interno degli ambienti in un edificio quindi se abbiamo la presenza di venti prevalenti in una determinata zona possiamo sfruttare questi venti per creare una ventilazione naturale all'interno dell'edificio. Naturalmente va valutato la posizione dell'edificio stesso perché il contesto diventa fondamentale a livello di presenza di inquinanti nell'aria esterna e in relazione anche alla presenza di rumorosità perché una ventilazione naturale di questo tipo può in taluni contesti essere controproducente dal punto di vista acustico dall'interno degli ambienti.